Partite Fuerteventura in vantaggio nei confronti di Poeta di strada all'interno in terza posizione Dolce Brigitte a largo invece Polar Suite poi seguono Skyfall Buontempone con all'esterno Django Gruppetto comunque ben riunito all'imbocco della curva di fondo Fuerteventura prosegue al comando in seconda posizione Poeta di strada con all'interno Dolce Brigitte poi a largo Polar Suite davanti a Skyfall Django con in coda all'interno Buontempone Cavalli ora all'ingresso in retta di arrivo Fuerteventura prosegue in vantaggio sempre tallonata all'esterno da Poeta di strada che ha all'interno Dolce Brigitte in cerca del Varco che ora trova all'interno di Fuerteventura più a largo cerca di avanzare Polar Suite poi Django, Skyfall e Buontempone Siamo a 400 dal palo Fuerteventura centropista in leggero vantaggio su Dolce Brigitte all'interno tra i due cerca Spazio Poeta di strada più a largo cerca di ingambarsi anche Polar Suite siamo nel tratto finale Dolce Brigitte all'interno Fuerteventura a largo a largo di tutti anche Polar Suite nel finale Dolce Brigitte prende il Ameio all'interno nei confronti di Poeta di strada Polar Suite Fuerteventura vicinissimi per il posto d'onore andiamo a rivedere le immagini con Samuele Diana in sella Dolce Brigitte buoni varchi interno indirittura per poi imporsi nei confronti probabilmente di Poeta di strada con il numero 4 a benze per il terzo posto Polar Suite a largo copre Fuerteventura quindi 5-4-6 il probabile ufficioso arrivo della quarta di Napoli ma per il terzo posto è il caso di aspettare il giudice d'arrivo Grazie Grazie Grazie